Buongiorno a tutti, oggi è martedì 4 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. Come previsto ieri, entro le 44 candele di discesa, abbiamo ripreso a salire, stiamo dando vita a un nuovo T-1 e siamo andati a target sulla media mobile che doveva essere raggiunta. Tra l'altro il trade ieri era molto semplice, bastava andare in violazione dei 12.494 e continuare a portarselo anche se qui probabilmente avremmo eventualmente chiuso in violazione di uno di questi minimi. Comunque portandoci a casa un bel gain, viceversa se avessimo avuto la pazienza di aspettare la partenza probabile del terzo T-3 saremmo arrivati a target appunto qui. A questo punto che cosa ci aspetta oggi per il DAX? Allora, andiamo a vedere le medie mobili, il grafico delle medie mobili. Qui facciamo così. Lo ricorreggiamo al ruolo, ok, perché rimane la centratura principale. Allora, abbiamo che il target per la salita è questa media mobile in marrone, a 12.747 circa. Poi però attenzione, perché se da qui non è partito un nuovo T settimanale inverso, e noi siamo arrivati già, ve lo faccio rivedere qui, all'undicesimo T-3 inverso che è già ribassista e che è arrivato alla bellezza di 29 barre. Qui in realtà sarebbe già arrivato a 26, quindi può aver già chiuso. Dopo un undicesimo T-3 inverso, rischiamo che parta un nuovo T settimanale, quindi di nuovo spinta ribasso. Per cui, facciamo molta attenzione. O da qui è partito un T inverso che ci permetterà di continuare a salire, oppure, ricordiamoci di controllare la spinta di ciò che partirà dopo l'undicesimo T-3 in base a due swing inversi, i 12.626 e i 12.573. In caso di violazione di questo livello, attenzione ancora. Per quanto riguarda invece il nostro Fuzzimib, vedete che siamo andati proprio a toccare il livello superiore dell'accumo con il minimo di ieri e stiamo ripartendo. Qui abbiamo fatto appunto 16 barre e poi ripartenza. Perfetto direi. Divergenza finalmente rispettata, divergenza rialzista. Qui siamo un pochino in ritardo, ovvero sta partendo il secondo T-3. L'undicesimo T-3 inverso è arrivato soltanto a 14 barre, quindi il target naturale appunto è questo. Il 19.604. Se non ricordo male, i future sono già rialzisti e positivi sia per Dax di 25 punti che per Fuzzimib di un centinaio di punti. Per cui se non fossimo ancora arrivati ai 604 o dove si troverà la media mobile a 200 periodi, ecco, tenete quello come target possibile. Esattamente come ieri siamo andati a prendercelo, anche oggi si può andare a prendere. Stesso identico però discorso appunto per Dax. Questo è l'undicesimo T-3? Perché nel caso lo fosse, si fermerà il rialzo e si ripartirà a ribasso presto. Se invece da qui fosse partito, anzi, da qui dal settimo T-3 fosse partito molto più difficile, anzi no, qui no. Qui l'unica possibilità che sia partito un T inverso in realtà è da qui. Quindi faccio che segniamolo come punto focale nella realtà di fatti ed avere anche un T inverso qui. Per cui occhio soltanto a questa cosa estremamente importante, per cui appunto possono cambiare rapidamente le cose. Dopo essere andati eventualmente a target sulla media mobile a 200 periodi, attenzione alla forza ribasso, perché se questo è l'undicesimo T-3, si prenderà a scendere. Dopo anche soltanto un minimo di 24 candele di inverso ribassizze, quindi a rialzo di indice. E noi siamo soltanto, appunto abbiamo detto, siamo soltanto a 14 su 24, abbiamo due ore e mezza minimo di teorica possibile salita. Se invece da qui fosse partito qualche cosa tipo un T inverso, avremmo più possibilità di avere ancora un po' di spinta a salire prima di scendere. Se l'analisi vi è piaciuta, like al canale come pacca sulla spalla, iscrivetevi al canale che è gratuito e cliccate sulla campanella. Viceversa, arrivederci. Viceversa, arrivederci.